Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e buon inizio di settimana. Allora, per tutti i non credenti che pensavano che il 28 non usciva più su Bali, ma è già uscito. Primo colpo di gioco, il 28 che poi volendo, molti di voi, io non l'avevo consigliato, l'hanno giocato come estratto. Però buon per loro, non cambia nulla assolutamente la previsione che avete preso ieri, e vi ricordo c'era solo per ieri, perché poi ovviamente queste sono previsioni un po' particolari, tecniche nuove, qui andiamo a giocare veramente, andiamo a fare la differenza. Perché? Perché sono previsioni che non ho mai dato. Questo qui, Bari, 28, primo colpo, 28 sulla ruota di Bari. Ma, già ieri sera alle 8 e 10, qualcuno, no ieri sera, sabato qualcuno, eh ma adesso è uscito, cosa si fa? Dovete giocarlo. Queste vanno a ripetizioni, queste sono tecniche che hanno sempre pagato l'ambo secco, come vi ho dimostrato su Genova, Iambidoro, uscito. Anche se è l'ultimo colpo, mi è uscito. Ma queste sono previsioni che fanno la differenza. Io ho detto che era stata data solo per sabato, ma mi hanno subito corretto, mi hanno detto che c'è anche oggi nel servizio telefonico. Ed è solo oggi e domani, perché poi mercoledì, ovviamente nell'attesa che anche le altre nostre previsioni sortiscano, andiamo a sostituirla. Il 90 non si è fatto vivo, nulla, di che io vi ho regalato questa previsione bellissima su Firenze e Genova, con il 90. Vi ho dato il 3,90 e il lambo unico, 23,53, 83,90. Vi state già fasciando la testa, siamo solo al terzo colpo di gioco, quello che verrà domani. Perciò l'abbiamo giocato per due volte, per due volte. Perciò mi raccomando, non fasciatevi la testa, ok? Lo so che siete abituati a avere previsioni che vincono a colpo, buon per voi. Qui non funziona così. Allora, detto ciò, un video molto breve, perciò la previsione che io vi regalo è sempre questa. Firenze e Genova, 90, 3,90, ambo e ambetto, mi raccomando, l'ambo secco anche a tutti. Ieri avete visto che il 3 è uscito sulla ruota di Palermo con il 6, 3,6, vedete? Questi numeri vanno su, soprattutto quelli su Palermo. Perciò occhio a questo 3 perché lo portiamo su. 68,76, da dove arriva? Semplicemente dalla formuletta del 90. Io devo ancora caricare gli scontri, ma ovviamente li caricherò. In giornata devo fare un po' di cose oggi, ma ce la farò, assolutamente. Allora, dopo avervi illuminato come faceva il grande poeta, e vi ho detto guardate che questo 6, 6, 36 non va bene, poi io vi consiglio di prendere una previsione di questa distanza 30 e portarla avanti. Vi siete accorti che nell'ultimo quadro estrazionale 16, 76, distanza 30, perché 16 più 30 fa 46, 46 più 30 fa 76, 76 più 30 fa 16, ok? Perciò questa è una distanza 30, sulla ruota di Cagliari. Vedete l'elemento mancante dov'è? Proprio qua, 46, 16, 76, 46. Allora, il 9,90, noi lo stiamo già giocando su Firenze e Genova, perché questa tecnica porta il 90. Allora, avete visto che c'è questa condizione? Il mio consiglio che vi do, spassionatamente, è di aspettare un paio di colpi, poi per carità può sortire a colpo, ci mancherebbe. Questi non sono metodi sommativi che lasciano il tempo che trova. Questo funziona sempre, o quasi sempre, ok? Perciò, se state già giocando la previsione che abbiamo fatto assieme, che è questa qui, ovviamente poi se mi arriveranno scontrini, se uscirà sempre, io vi aiuterò sempre con queste, quando ci sono le condizioni. Se non arriveranno, io ve l'ho consegnata e andrò a darla a chi merita. Però avete fatto bene che nell'ultimo quadro estrazionale vi siete accorti che c'è proprio questa condizione perfetta, 16,76,46. Perciò andiamo ad aggiungere il nostro 90, che lo terremo come riferimento su Cagliari e Milano, ok? Ovviamente io personalmente sto giocando la previsione, quella su Firenze e Genova, perché? Perché siamo già arrivati al terzo colpo e non è mai consigliato abbandonare una previsione dopo che passano solo tre colpi per andare a prenderne un'altra che si riparte dal primo colpo. Ragazzi, approfittatene, Bari, 28, primo colpo è sortito dal 28, non importa, assolutamente. noi questo Ambo lo andremo a prendere secco, neanche in Ambetto, lo andremo a prendere secco, perché è una tecnica favolosa che sta dando ottimi, ottimi risultati, ok? Poi, se siete furbi, chi non riesce a chiamare, vi ho regalato il 64 sulla ruota di Bari, ok? Ragazzi, per oggi è tutto, scappo perché devo fare centomila cose, mi raccomando, approfittatene, lo ripeto, per entrare nel gruppo Matos, perché dal primo d'ottobre ogni mese verrà consegnata una favolosa tecnica inedita da mettere nella vostra collezione. Abbonarsi al Matos è semplicissimo, basta contattare Maurizio Jantolo e vi dà tutte le istruzioni per entrare. Ci vediamo domani mattina per gli ultimi accorgimenti, dal Capitano è tutto, un grosso beso, ciao!